Cosa? Ugo? No, qua no. Lo sento, lo sento, in condizione sì. Ah, ragiona, 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 scusa, avevo io mutato. Un euro? Partiamo con un euro? Un euro, un euro. Mamma mia, sarà così fra... Ugo, buona sera. Ugo, buona sera. Ugo, buona sera e buona sera. Ugo, buona sera e buona sera. Ci fa chiaro vinciste i mille... 2003, 2003. Girl of... Callo massimo, oggi è... Qua... Ah, ma la vuoi? Cassino. Scusate. Hai fatto... Prima che te lo chiedono, Genna, Start, lo scrivo nel titolo, in modo che... Ah, 1083. Scrivo Start, 1083. Sì, perché Giorgio Perthelwind. Ok. Diciamo... Dai un po' cazzo, dai cazzo. Il maestro ti ha scelto. Mai. Cazzo, guarda la buttata. Oh. 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 Metticela, questo ce lo devi mettere, Tandley. Cazzo dai, ora. Ora. No. Cazzo. Niente, niente. Niente, niente. Niente, niente. 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 Dai, do... Edo triste. Dai, cazzo. Dai, cazzo. No, vado, li diamanti sono strano, no? Dai, cazzo. Dai, cazzo. Cazzo. Grazie, lo vince! Grazie, bello! Ehm... 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 Èma. Ehm... Ehm... Grazie. Ma... Grazie mille! Troppo a Gata. Grazie, bro. No, sono parecchi per il disapp, bro. ho un altro culo grazie fate bene un pulicino in chat per lori dj che preventi sub ragazzi grazie mille lori voglio bene lo so non lo so un gol di sa di scambio stasera e non lo so fra io manderei un euro e cinquanta no si si fa così comunque lori dj non ha mai chiesto il per due e ha donato grazie a te ne ha ragione se non è invocato ma chiarizzato stagazzo vorrei due ore e 20 la porca da metto già scambando ci vuole una poca ci guardi per basse molto arrestamento dove ci guarda si si a 50 ce ne andiamo nooo colpo al cuore la cavallo che è un vamo buco bastardo non vamo proprio vamo non vamo non vamo bastardo non vamo vedete l'ho già dato la gioia oggi signori dai cazzi c'è una bella pagata dai cazzo niente ha maniato con maciuccio con maciuccio già però secondo me può pagare secondo me stop 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 per me stop può pagare pasquale è stata la sierda io ti ho dato un consiglio è bittacino porto due dai come sento dai cazzo oh ma deciso dai almeno cuore rosso niente 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 dai cazzo tre castori grazie per i bit bello stava indecore gennaro ecco a te il tuo regalo ti lo merito grazie lori grazie mille toglia bene fra grazie davvero per le 20 sub grazie a morì grazie a morì ma io ho visto il 2 euro coliardi no dai cazzo mettecelo a moro oh ma che pallo non è possibile non è possibile lo jè tagit non è possibile che me la faccia tra il lingotto ma porco 2 oh ma non sei pagato 100 euro ti rinnovo il consiglio stiamo assandic stiamo assandic no non è vero che buono manco io non è vero che buono ma io c'è indietro così non preoccupo recuperammo recuperammo e poi crazy time eh vediamo come sta messa ho black check no che si dai come sta messa vediamo pure la storia è esciuto pure un nuovo crazy ma già marone mi dice bastardo pezzo di merda senza che ho fanno su scimina ma ci ricordate capito ma ci ricordate io ma guardate che se doveva stare ma basta lo stavo aggiano guarda un bel gelato noi no 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 oh grazie grazie ciao maestro buonasera come sta stasera si sbanca ho il contrario ma avete startato col crazy ugo ha fatto via collora dicendo nemmeno che buco frano buco fra era poi oh dai oh 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 ma che scama dai bravo oh 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 pry ritardo scusate per ritardo è ritardo cioè matteo è arrivato questo vabbè vincitore euro ragazzi stanno tutti i streamer quando usciranno che facciamo c'è voleva vernici che sostenute i streamer e volete regalare in disabba chi vincere a marcia sarà una decina è brutto uno per cinque quando sarà a 5 1 ai tavola it masca lo riesce torna subito ragazzi ciao bella tt y ragazzi non è partita ancora maggi la grande botta ci vuole che esce due buono buono la grande botta per me la grande botta su dieci pappa vai in giù no sto ecco s Sì, 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 sì.